Buonasera a tutti e benvenuti al terzo live di X Factor Bello, brava, poi sei molto 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 più di questo secondo me Tu l'hai cantata in maniera molto più morbida rispetto a come usi cantare, quindi sono contenta I ricordi Massimo Ragneri, che è un bene, cioè il problema è che Massimo Ragneri appartiene a un'altra generazione Ma che cazzo dici? E non è colpa tua Ha il miglior timbro di questa edizione e su questo non ci piove proprio Tre spanne sopra tutte le esibizioni che abbiamo sentito e non dovrei dirlo Signore e signori, Michele Bravi Canterà per il cantautorato italiano perché ha la voce per farlo Sia su di te che su di Citra ho trovato i brani che sapevano più di vecchiume mi viene da dire Ma che cazzo dici? La mucchiata è stata fantastica, devo dire che siamo andati oltre l'orotismo Parliamo di flow, parlando di flow io credo... Chi è flow, una tua amica? Tu Andrea hai una bellissima voce, te l'ho sempre detto, te l'ho detto sempre Questa versione è una coppia carbone dell'originale Signore e signori, un grandissimo Harry Styles Va all'ultimo scontro tra Sam & Stan e Andrea Sam & Stan Andrea sei salvo E se ho sbagliato un giorno ora capisco che L'ho pagata cara la verità Io ti chiedo scusa, non sai perché Stati casa qui la felicità Elimino Se vuoi andare al tilt, i rossi I rossi I rossi, perfetto Quindi siamo andati, ma che sorpresa, al tilt E il pubblico con i suoi voti ha deciso di salvare I rossi E il pubblico con i suoi voti ha deciso di salvare